Cosa è? Mi lo so chi sei l'ho! Nel signor Vianello nella rei tv a colori che mi fa morire con le sue stupidanze! Oh che fortunata che sono, sei la rei tv, lui! Senta, senta, e conosci il dottor Bonori! Il dottor Bonori c'è uno che ho conosciuto io che viene dalle mie parti quando si deve riposare e dice che sei il dottore alla rei tv, c'è vero? Sì, sì, ma vero. Conoce vero, ma c'è una barra alla colori! Ma niente, non è importanza! Senta, lei mi fa morire, morire, morire! Mi fa morire, ma guarda quel fortunato! Stia buono adesso, stia calma, eh! Mi lasci in pace, non si abbandoni a manifestazioni di euforia spropositata! Cosa sei una battuta questa? Sei una battuta, eh! Ma io l'ho capita, ma mi fa ridere lo stesso! Madonna! Ma come fa lui a pescare sempre le battute? Sempre, sempre, sempre! Sei proprio bravo! Cosa sta mangiando? Ma come? Chi sta mangiando? Cosa ha lui in bocca? Ma qui, ma qui c'è un mal di denti, è un ascesso! No, ma dico lui, ha il boccone in bocca? Ma no, è un ascesso, l'ho detto, è un ascesso! Un ascesso? Sì, è un ascesso, non c'è niente da ridere, è un ascesso! Cosa che sei? Il doppio senso? Ah, cesso! Il gabinetto! Cos'è libero? È libero, cosa c'entra lì? Anch'io so dire le battute sul gallello a chi? Ah, ma ho capito, ho capito! Lì dietro lo specchio che sei il nani lì che fa il cinema! Ah, che sei il nani lì, è lì! Poi hai fatto una scenetta per lo specchio segreto! Ma quale specchio segreto? Ho capito, ho capito! Allora lui fa pinta da aver mal di denti e fa pinta, ma come sei bravo! E cosa calo? Cosa calo? In bocca una pallina per far ridere? Ma cosa calo? Permette? Ma cosa permette? Ma permette che scopri il trucco? Posso scoprire il trucco? Ma cosa vuol dire? Ai! Buona Pasqua signor Vianello, buona Pasqua, perché non va così in televisione quando sei Pasqua, signor Nani, hai capito cosa l'ha fatto signor Vianello, come te sei Pasqua, io mi sento male, mi sento, mamma mia, mamma mia, odio, 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 adesso basta, eh? Cosa fa, lo si arrabbia e mi fa ridere quando si arrabbia, si uscireva. Ho detto basta. Basta, 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 guarda cosa vuol fare, vuol diventarmi, guardi che sei, dite lì signor Nani, l'hai, guardi che dopo sei mia Violetta, il bene signor Nani, l'hai, eh? Io approfitto, 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 sì, lui, che non c'è nessuno e tra poco c'è una galleria. Cosa fa, lo si approfitta, lui? Sì, io, io, io. Ma se la signora Santa mi ha detto in televisione che lui, insomma, è un po' freddino, che combina poco in poche parole. Adesso ti faccio vedere io se combina poco, adesso ti faccio vedere io se combina poco. Non la faccia mica tanto Violetta, perché se no l'anirò e la taglia dopo. Che scherzo che paga tanto. Ma come? Non ti è successo niente? No, no, si è successo qualcosa, me la son fatta ad osso, ho cominciato a cremone e ho finito a mandola. Grazie. Grazie. Grazie.